Mi chiamo Davide Carnevalli, ho 34 anni, sono nato a Milano ma da più di dieci anni non vivo più in Italia, mi sento molto europeo, ho vissuto gli ultimi anni tra Barcellona e Berlino e faccio parte di Fabula Mundi perché credo in una rete di connessioni europee, perché credo nella necessità di dare una possibilità alla vita dei testi oltre il contesto in cui nascono, per esempio io scrivo in italiano però per me è sempre stato abbastanza naturale pensare che l'Italia non fosse né il primo né l'unico mercato possibile per quello che scrivo, ad esempio in Germania il sistema termine funziona attraverso il repertorio, vuol dire che testi e spettacoli hanno una possibilità di vita molto lunga e questo dà la possibilità al testo di crescere, al spettacolo di crescere, dalla possibilità all'autore di vedere come il testo si evolve, come il testo viene adattato in differenti contesti, in differenti teatri attraverso differenti estetiche e portare questo sistema a livello più ampio, a livello europeo quindi vedere come il tuo testo può essere adattato in un altro contesto culturale, in un'altra lingua ovviamente anche attraverso altri occhi, con un'altra visione del mondo, è una cosa assolutamente interessante e anzi è una cosa auspicabile e speriamo che continui ad essere così.